Tanto pubblico e piloti sul tracciato di Franciacorta per il primo round dei trofei Wheel Up Moto Estate hanno confermato il successo del torneo più longevo d'Italia, che in terra lombarda ha aperto la stagione di gare. Paddock colorato e pieno di iniziative piaciute al pubblico, con gli spettacoli trial capitanati dall'equipe di Fabio Lenzi, il baby parking dove i bambini si sono divertiti a giocare sotto l'occhio attento di uno staff professionale. In pista non sono mancate le emozioni e le bagarre in una ricca giornata di gare, che ha visto l'esordio assoluto delle nuove categorie Mini GP, Moto 4 e Super Mono, che si sono affiancate alle classi storiche, 600, 1000, Race Attack e CRV. Ad aprire il nutrito programma di gare i ragazzi della Mini GP, che hanno riempito la griglia con le loro moto 52 tempi fino ai 194 tempi. La gara è stata caratterizzata dalla bella lotta tra Lunetta e Piccolo, che a suon di sorpassi si è protratta per i sei giri in programma. Per 20 millesimi la vittoria è andata a Lunetta, che ha preceduto Piccolo e Maila, terzo. Liguori ha invece vinto davanti a Tonolo la categoria 160. Terzo posto per la giovanissima Josephine Brunot. Nella 125 SP Marco Baldassarre, vincitore dell'edizione 2017, riparte da una vittoria nella 125 Open. Dopo una bella bagarre nelle fasi iniziali con Pisano e Scagnetti, ha guadagnato margine, precedendo i rivali nell'ordine. Nella 125 SP vittoria del croato Zidaric davanti ad Anelli e Repetti. Nella Moto 4, la neonata categoria che vede al via moto con ruote da 17 pollici, monomotore e telai liberi, ottimo trampolino di lancio verso la Moto 3, si è dipinta dei colori del team Bucci. Il costruttore parmense ha piazzato i primi tre posti le sue moto. La vittoria è andata a Finello, che ha regolato Como e Ferrari. Lotta infuocata tra Manuel Rocca e Filippo Rovelli nella 300, che al suo interno ha la speciale classifica del Challenge Go 11. Piloti sullo stesso piano tecnico, con moto uguali e assistenza specializzata al servizio dei piloti, con un tutor d'eccezione, Kevin Manfredi, a suggerire ai piloti come migliorare. Tornando alla gara, il Bresciano Rocca ha dato via un bellissimo duello contro Rovelli. Peccato che a un giro e mezzo dalla fine, Rocca è scivolato alla curva 14, lasciando così via libera al rivale. Vittoria per Rovelli, che al suo traguardo ha preceduto Costantino e il Bresciano Felappi al primo podio stagionale. Un bel inizio anche per lui. Nel Challenge Go 11 la vittoria è andata a Costantino, bravo dopo tre anni di natività, a tenere alle spalle i bresciani Felappi e Barbiani, che hanno ricevuto l'applauso di numerosi amici arrivati a Franciacorta. Nella 250 SP, dieci giri intensi per la quarto di Litro. Luca della Bianca è stato bravo a partire bene e accumulare vantaggio su Guidi, secondo e Federigi, terzo. Vibrante la gara della 600 moto estate, con Tomio, Rizzo, Besana, Mortali, Curinga e Filippi in lotta per la vittoria. Hanno dato spettacolo con un lungo serpentone fino al primo colpo di scena che ha stromesso per caduta il Bresciano Filippi. A sei giri dalla fine Rizzo si è portato in testa e ha mantenuto la testa fino alla bandiera a scacchi, rintozzando gli attacchi di Tomio, secondo. Terzo gradino del podio per Mortali, bravo a precedere, Besana e Curinga. Raimondi imprendibile nella supermono. Il pilota reggiano ha condotto una gara solitaria che gli ha regalato la prima vittoria stagionale. Raimondi primo assoluto e primo della categoria Mini. Al secondo posto è primo per la categoria Open, Lazzarini. Terzo posto di Bleggi e secondo gradino del podio nella Open, mentre terzo di categoria ha chiuso dall'Aio. Nella Mini, come dicevamo, Raimondi ha preceduto un ottimo Ferri che a sua volta ha lottato contro moto più grosse, finendo quarto assoluto. Terzo posto di classe per Rossi che ha preceduto Mascheroni in volata. Gara vibrante con il duello ravvicinato Bocelli, Fratus e Bartolini nella Moto Estate 1000. Bocelli è stato perfetto nel rintuzzare gli attacchi del perdone di casa Fratus. Una gara bellissima che si è risolta solo al fine quando Bocelli ha respinto l'ultimo tentativo di Fratus. Terzo posto per Bartolini che è sempre stato nel gruppo di testa e ha preceduto Maestri all'esordio nella 1000 e primo nel Challenge Dunlop che ha preceduto Paolo Cristini, quinto assoluto e secondo nella speciale classifica. Ricca di iscritti, la Race Attack 1000 ha vissuto sulla lotta tra Scotti, Palladino e Alberto Nasca Fontana che in entrambe le manche hanno regalato sorprese e spettacolo grazie ai tanti sorpassi. Scotti con due vittorie di manche ha messo in cassaforte il successo finale con punteggio pieno. Seconda piazza per l'ottimo Palladino e terzo Alberto Fontana alla prima gara della carriera. Nasca si è giudicato inoltre la classifica Rookies. Nella Race Attack 600 come la classe maggiore, spettacolo in pista con Maggio out nella prima manche che si è rifatto nella seconda manche vincendo a mani basse. Manuel Mozacchiodi ha vinto la classifica assoluta mettendo alle spalle Gueli e Maggio. Anche la 600 ha regalato emozioni ai tanti sorpassi rendendo incerto il risultato finale fino all'ultima bandiera a scacchi di giornata. Archiviata con successo la prima prova, ora il Moto Estate ripartirà il prossimo 26-27 maggio a Varano.